Ubriachi Chekhov Il fabbricante Frolov, un bel bruno, dalla barbetta tonda e con una dolce, vellutata espressione negli occhi. Il suo avvocato Almer, un uomo maturo, dalla testa grossa, ruvida, facevano balloria in una delle grandi sale di un ristorante suburbano. Entrambi erano giunti al ristorante direttamente da un ballo, e perciò erano in marsina e in cravatta bianca. Tranne loro e i camerieri alle porte, nella sala non c'era anima. Per ordine di Frolov non si lasciava entrare nessuno. Cominciarono col bere un grosso bicchierino di vodka ciascuno e a mangiare ostriche per l'antipasto. — Bene, disse Almer, sono stato io, caro, a mettere di moda le ostriche come antipasto. La vodka ti brucia un poco, ti scortica un poco la gola, ma appena inghiotti un'ostrica senti in gola una volutà. — Non è vero? Un posato cameriere dai baffi rasi e delle fedine canute mi sentavola una salsiera. — Che cosa ci servi? domandò Frolov. — La salsa provenzale, per la linga. — Che? — Forse che si serve così, gridò il fabbricante senza guardar la salsiera. — E' forse una salsa questa? — Non sai servire, tanghero! Gli occhi velutati di Frolov lampeggiarono. Egli si avvolse intorno al dito un angolo della tovaglia. Fece un leggero movimento e antipasti, candelieri, bottiglie. Tutto piombò con fracasso sul pavimento, tintinnando e stridendo. I camerieri, già da lungo tempo abituati alle catastrofi di trattoria, corsero verso la tavola e seri flemmatici, come chirurghi durante un'operazione, si dietero a raccattare i cocci. — Come sai fare con loro? disse Almer. E si mise a ridere. — Ma scostati un pochino dalla tavola, se no metti i piedi nel caviale. — Si chiami quell'ingegnere! gridò Frolov. — Ingegnere! Veniva chiamato un decrepito vecchio dal viso acido, che in realtà era stato un tempo ingegnere e persona ricca. Egli aveva scialacquato ogni sua sostanza, e verso la fine della vita era capitato nel ristorante, dove dirigeva i camerieri e le cantanti, e sbrigava varie incombenze relative al sesso femminile. Apparso alla chiamata, chino rispettosamente la testa da un lato. — Senti, caro! si rivolse a lui Frolov. — Che disordini sono questi? Come si serve qui da te? Non sai, forse, che questo non mi piace? Che il diavolo vi porti? Io smetterò di venire da voi. — Prego di scusare generosamente Alexia e Semionic, disse l'ingegnere stringendosi una mano al cuore. Prenderò immediati provvedimenti e tutti i vostri minimi desideri saranno esauditi nel migliore e più rapido dei modi. — Beh, sta bene, va. L'ingegnere si inchinò, indietreggiò, sempre in posizione inclinata, e sparì fuori dalla porta, facendo luccicare per l'ultima volta i suoi brillanti falsi alla camicia e sulle dita. La tavola degli antipasti fu imbandita di nuovo. Almer beve vino rosso, mangiò con appetito non so che uccello coi tartufi, e si ordinò ancora delle lote alla marinara e uno storioncino acciambellato. Frolov non beveva altro che vodka e ci mangiava sopra del pane. Egli si passava le mani sul viso, agglottava le ciglia, sbuffava ed evidentemente non era di buon umore. Entrambi tacevano. Regnava il silenzio. Due lampade elettriche, nei loro globi opachi, sbaluginavano e sfreggevano, come si addirassero. Di là dalla porta, canticchiando piano, passavano le zigane. — Bevi e allegria niente, disse Frolov. Quanta più me ne verso dentro, tanto più divento lucido. Gli altri per ber vodka si fanno allegri. A me invece vengono rabbia, pensieri odiosi, insonnia. Perché poi, caro, gli uomini, oltre le ubriacature e gli stravizi, non sanno escugitare qualche altro godimento? È disgustoso davvero. E tu chiama le zigane? — Ma vadano un po'. Alla porta del corritoio si mostrò la testa di una vecchia zigana. — Alexei Semionich, gli zigani chiedono te e cognac, disse la vecchia. Si può ordinare? — Si può, disse Frolov. Tu lo sai, loro pigliano dal padrone del ristorante delle percentuali per le consumazioni che si fanno offrire dai clienti. Oggidì non si può credere nemmeno a chi ti chiede la mancia. Tutta gente bassa, ignobile, viziata. Rendiamo anche solo questi camerieri. Faccia da professori, capelli bianchi, guadagnano duecento rubli al mese. Vivono in casa propria, fanno studiare le figlie al ginnasio. Ma tu puoi insurriarli e darsi delle arie quante vuoi. L'ingegnere per un rublo ti ingollerà un barattolo di senape e farà il verso del gallo. Parola d'onore. Se almeno uno si offendesse, gli regalerai mille rubli. Ma che hai? Domandò Almer, guardandolo con meraviglia. Di dove, questa balinconia? Sai rosso? Sai ambire una belva? Che hai? Sono di pessimo umore. Ho un'idea fissa in testa. Ci si è piantata come un chiodo e non c'è verso di farla venir via. Nella sala entrò un piccolo vecchio rotondetto che nuotava nel grasso, del tutto calvo e spelacchiato, in giubba e falde corte, in panciotto color lilla, con una chitarra. Egli fece una faccia da idiota e si mise sull'attenti, facendo il saluto come un soldato. — Ah, il parassita! disse Frolov. Te lo presento. Ha accumulato un patrimonio, col grugnire come un porco. Eri un po' qua. Il fabbricante versò in un bicchiere della vodka, del vino, del cognac, disparse del sale e del pepe, rimescolò tutto ciò e lo porse al parassita. Costui beve e fece un raschio alla brava. — Non è abituato a bere questo intruglio, tanto che il vino puro gli dà la testa, disse Frolov. — Beh, parassita, siedi e canta! Il parassita sedette, toccò con le dita grassa le corde e intonò — Nicca, nicca, marghericca! Bevuto dello champagne, Frolov fu ebbro. Egli batte col pugno sulla tavola e disse — Sì, ho un'idea fissa in testa. Non mi dà un minuto di pace. Ma di che si tratta? — Non posso dirlo. È un segreto. È un tal segreto mio che solo nelle preghiere lo posso dire. Del resto, se vuoi, da amici, tra noi. Ma tu bada a nessuno. Nulla di nulla. Ti dirò tutto. Ne avrò sollievo. Ma tu, per amor di Dio, ascolta e dimentica. Frolov si chinò verso Almer e per mezzo minuto gli soffiò nell'orecchio. — Mia moglie, la odio, pronunciò. L'avvocato lo guardò meravigliato. — Sì, sì, mia moglie, Maria Mikhailovna, mormò a Frolov arrossendo. La odio. È tutto qui. Ma per che cosa? Lo stesso non capisco. Sono sposato da due soli anni. Mi sposai, lo sai, anche tu, per amore. E adesso la odio già come un nemico insoffribile, come, scusami, questo stesso parassita. E motivi non ce ne sono. Nessun motivo. Quando è seduta accanto a me e mangia, o se dice qualcosa, tutta l'anima mia ribolle. A stento posso frenarmi per non dirle villanie. Accade semplicemente una cosa tale che neppure si può dire. Lasciarla o dirle la verità è assolutamente impossibile, perché sarebbe uno scandalo. E vivere con lei, per me, è peggio dell'inferno. Non posso starmene a casa. Sì, di giorno sono sempre fuori per affari e nei ristoranti. E la notte vado in giro per i ridotti. Beh, come spiegherai questo odio? Non è mica una qualunque. È una bellezza. È intelligente, quieta. Il parassita pestò il piede e intonò. Con l'ufficiale passeggiavo. Di segreti gli parlavo. Se devo confessarlo. Mi è sempre parso che Maria Michailovna non fosse punto fatta per te, disse Almer dopo un po' di silenzio. E sospirò. Troppo istruita, dirai. Ascolta, io stesso terminai l'istituto commerciale con la medaglia d'oro. Sono stato un tre volte a Parigi. Non sono più intelligente di te, certo, ma non sono più sciocco di mia moglie. No, caro. Non nell'istruzione sta il busillis. Ascolta, da che cosa cominciò tutta questa musica? Cominciò da questo. E prese a sembrarmi che lei mi avesse sposato non per amore, ma per la ricchezza. E questo pensiero mi si piantò nella zucca. Ormai son fatto così. E lì, fisso, il maledetto. E qui, per giunta, mia moglie fu sopraffatta dall'ingordigia. Dopo la povertà, era capitata in una miniera d'oro. E avanti a buttare il denaro a destra e a sinistra, perdette la bussola. Si lasciò andare a tal punto ad approfondere ogni mese ventimila rubli. E io sono un uomo diffidente. Non credo a nessuno, io. Sospetto di tutti. E quanto più gentile tu sei con me, tanto più mi tormento. Mi par sempre che mi silusinghi per il denaro. Non credo a nessuno. E io sono un uomo difficile, caro, molto difficile. Frolof guatò d'un fiato un bicchier di vino e proseguì. Del resto, tutte queste sono insulsaggini, disse. Di queste cose non bisogna mai parlare. È sciocco. Ho chiacchierato da ubriaco. E tu, adesso, mi guardi coi tuoi occhi avvocateschi, lieto di aver appreso il segreto altrui. Vabbè, lasciamo questi discorsi. Beviamo. Senti, si rivolse al camelliere. C'è da voi, Mustafa? Chiamalo qui. Poco dopo entrò nella sala un piccolo tartaruccio, sui dodici anni, in marsina e con guanti bianchi. Vieni qui, gli disse Frolof. Spiegami il seguente fatto. Ci fu un tempo che voi, tartari, ci dominavate, e pigliavate da noi il tributo. Adesso, invece, fate i domestici in casa dei russi, e vendete vesti da camera. Come si spiega un tal cambiamento? Mustafa levò in alto le sopracciglia e disse con esile voce, cantile Nando. Volubilità del destino. Almer guardò la sua faccia seria e schiattò dalle risa. Su, via, dagli un rublo, disse Frolof. Con questa volubilità del destino sta accumulando un capitale. Soltanto per queste tre parole lo tengono qui. Bevi, Mustafa, un gran farabutto diventerai. È davvero uno spavento quanti di voi altri parassiti si strusciano a un uomo ricco. Quanto vi siete moltiplicati, voi, pacifici briganti e predoni. Non c'è più scampo. O che sia da chiamare ancora gli zingari. Eh, fa venire gli zingari. Gli zingari, che già da un pezzo languifano nei corridoi, irrupperò nella sala, schiammazzando, e cominciò una gozzoviglia selvaggia. Bevete, gridava loro Frolof. Bevi, stirpe faraonica. Cantate. Hi, hi, hi. Era d'inverno. Hi, hi, hi. Volavano le slitte. Hi, hi, hi. Gli zingari cantavano, fischiavano, danzavano. Nella frenesia, che a volte si impadronisce delle nature larghe, molto ricche e viziate. Frolof si mise a far follie. Ordinò di servire agli zicani cena e champagne. Mandò in pezzi il globo opaco di una lampada, scaraventò bottiglie contro quadri e specchi, e tutto ciò evidentemente senza alcun piacere, accigliandosi e gettando gride irritate, con disprezzo verso gli uomini, con un'espressione di astiosità negli occhi e nei modi. Egli obbligò l'ingegnere a cantare una solo. Fece bere ai bassi un miscuglio di vino, di vodka e di olio. Alle sei gli porsero il conto. Novecentoventicinque rubli e quaranta copeche, disse Almer, e si strinse nelle spalle. Per che cosa, poi? No, aspetta, bisogna verificare. Nascia, mormorò Frolof, cavando fuori il portafogli. Via, rubino pure. Per questo appunto son ricco. Perché mi derubino? Senza parassiti non si può fare. Tu sei il mio legale. Ti prendi sei mila rubli all'anno. E per che cosa? Del resto, scusa, io stesso non so quel che dico. Tornando a casa con Almer, Frolof mormorava. Per me andarmene a casa è orribile. Sì, non ho una persona a cui possa aprir l'anima mia. Tutti predoni, traditori. Beh, perché ti ho confidato il mio segreto? Perché? Dimmi, perché? All'ingresso di casa sua egli si allungò verso Almer e barcollando lo baciò sulle labbra, secondo la vecchia usanza moscovita di baciarsi senza criterio, a ogni occasione. Addio, io sono un uomo diffidente, pessimo, disse. La mia vita è brutta, da ubriacone, svergognata. Tu sei una persona istruita, intelligente, e sogghigni soltanto, e bevi con me. Nessun, nessun aiuto mi viene da voi tutti. Ma tu dovresti, se sei il mio amico, se sei un galantuomo, dovresti dirmi sul serio. Eh, un uomo basso, ignobile tu sei. Una canabia, sei tu. Via, via, borbottò Almer, va a dormire. Nessun aiuto ho da voi. Ho solo una speranza. Che, ecco, quando d'estate sarò in villa, uscirò nei campi e sopraverrà un temporale. Che mi colpisca un fulmine e mi spiaccichi sul posto. Ah, addio. Frolof baciò ancora una volta Almer, e addormentandosi già nell'andare, borbottando, sorretto da due domestici, prese a salire la scala. Grazie. Grazie.